Salve a tutti friends dal vostro supercorris, ultimo video della giornata inerente alla formula 1, ultimo video dedicato a Carlos Sainz Che io non sento a definire una grossa delusione in questa stagione, devo essere molto sincero, non mi è piaciuto Sainz, né in pista né fuori E ora ne parleremo, poi chiaramente da domani ragazzi faremo la prima pagella del 2022 che si riferirà a Latifi Faremo la prima pagella, poi faremo anche un video per parlare di questi 3000 incredibili video che siamo riusciti a realizzare in 2 anni e 7 mesi Un risultato straordinario, veramente vi dirò le mie sensazioni perché non è stato facile fare 3000 video e mettersi 3000 volte davanti alla telecamera Prima di partire a bomba col video di Sainz, come al solito vi chiedo di iscrivervi a questo, al secondo canale Supercorris The Gamer Al canale degli Shorts dove ho fatto giorno Shorts che anticipava questo video, anticipava i pensieri di questo video C'è il canale delle offerte Supercorris Offerte Amazon, è la settimana del Black Friday quindi tutti i giorni troverete offerte incredibili Ragazzi in tutto l'ambito tecnologia e vi consiglio di iscrivervi ma soprattutto il fine settimana arriveranno delle bombe incredibili quindi preparatevi C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprimi sondaggi con cui vi chiedo ogni giorno cosa volete vedere Avete votato stasera di fare una live sulla carriera MyTeam, la faremo C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola dove torneremo in live domani sera E c'è il mio Black Friday fino a lunedì praticamente Troverete tutti i miei videocorsi che si trovavano a livello di abbonamento platino 24,99 costava a livello di abbonamento ora 10 euro 9,99 Quindi per tutta questa settimana troverete la possibilità per tutto un mese poi una volta vi siete abbonati Di sfruttare questi contenuti incredibili che hanno aiutato tanti a partire da zero e già crescere con i loro canali YouTube E fare qualcosa di importante Partiamo subito ragazzi Allora Carlos Sainz, Carlos Sainz è stato la delusione più grande della stagione in Ferrari Perché? Ci si aspettava un Sainz che facesse quell'ulteriore step verso l'alto Dopo aver fatto un 2021 incredibile Sainz arriva in Ferrari da secondo pilota designato Sicuramente perché Ferrari toglie Vettel proprio per non avere due galli nella sua stalla Viene preso appunto Sainz perché è un secondo pilota designato Sainz non ha mai vinto una gara in Formula 1 C'ha già un'età avanzata, ha fatto poco Un pilota buono Come erano buoni Bottas, i Coulthard, questi che hanno fatti i secondi piloti Barrichello Sainz arriva, fa una prima parte di stagione l'anno scorso Non eccezionale a parte il podio a Monte Carlo e poco più Arriva sempre dietro le Clerc Da metà stagione in poi Sainz inizia ad andare meglio di le Clerc E fa una parte finale di stagione incredibile Tanti podi, mette le Clerc sempre dietro E arriva davanti in classifica generale A quel punto ci fu anche una dichiarazione di Binotto Su cui ha fatto un video che disse Punteremo su Sainz Che sconvolse il mondo Infatti dopo se lo rimangio subito Binotto E tutti pensammo Vi dissi io Ci sono piloti che hanno fatto lo step Se voi vedete nel 97 Mika Huckinan era il secondo pilota McLaren Perché Coulthard quell'anno vinse due Gran Premio Arriva davanti a Huckinan in classifica Che vinse un solo Gran Premio all'ultima gara Perché Villeneuve che stava diventando campione del mondo Fece passare entrambe le McLaren Pensate un po' voi Da quello Huckinan dall'anno successivo È diventato il due volte campione del mondo che tutti conosciamo E ha asfaltato Coulthard Nella mia mente ho detto Si potrebbe ripetere una situazione del genere Dove magari un Sainz ti prende E esplode Sboccia come pilota vincente E nessuno se lo aspettava Questa stagione invece ha ridimensionato enormemente Sainz Sainz questa stagione Se avesse fatto una stagione veramente buona Avrebbe confermato di essere un pilota da mondiale Questo non lo è stato Cioè l'eclercola devastato da tutti i punti di vista Ora io posso capire A inizio anno non si è trovato con la macchina Però un pilota innanzitutto con la macchina ti devi trovare Sainz ha fatto degli errori A inizio stagione incredibili Cioè ben due gare è uscito al primo giro La gara peggiore è stata proprio quella dell'Australia Con una Ferrari che aveva un passo talmente superiore Che avrebbe permesso a Sainz che partiva dietro Con le gomme dure Ed arrivare tranquillamente secondo Quindi Sainz già dalle prime gare ha avuto problemi Non si è risparmiato neanche nelle dichiarazioni contro il team Perché mi ricordo quando annunciò a Barcellona Che non sapeva guidare l'auto Non riusciva a guidare quest'auto Che Ferrari aveva creato l'auto per l'eclerc Quindi sempre dichiarazioni non proprio positive E che destabilizzavano il team Spesso e volentieri ho sentito Sainz dire appunto L'eclerc va meglio E a me non mi hanno aiutato Questa stagione stanno appuntando tutto sull'eclerc E' chiaro che Nel team sono rimbalzate queste cose Sainz da un certo punto ha iniziato ad andare bene Ma io ripeto Secondo me più perché il team Ha iniziato a virare verso di lui Non a caso in Canada una gara dove poteva vincere Una gara dove con le gomme più nuove L'ha sbagliato Ferrari perché gli doveva mettere le gomme Almeno gialle e gli è andata a mettere Per fare 15 giri le bianche Pensate un po' per la pazzia Però le gomme erano molto più nuove di quelle di Verstappen Sainz fa gli ultimi giri senza mai provare A buttarsi dentro una volta Per quanto sia sempre a 3-4 decimi La capisci che non sia un fenomeno Vedevamo l'eclerc che rimontava Dopo aver preso la penalità per il motore Fare sorpassi incredibili Sainz mezz'ora dietro a Verstappen Non è riuscito a fare un sorpasso Sainz ragazzi nella gara che ha vinto È riuscito a far somigliare Nella sua prima vittoria in Formula 1 Immeritata Perché a Silverstone Sainz con l'eclerc con l'ala rotta Non riusciva ad andare E infatti l'eclerc più volte ha chiesto al team Di essere Che Sainz scegliesse la posizione Quando Sainz sceglie la posizione L'eclerc se ne va Si invola Ma come si era involato anche a Barcellona Come si era involato a Monte Carlo Sainz non l'aveva visto mai a Leclerc La prima gara dove veramente Sainz con le sue prestazioni va meglio di Leclerc E Spa Pensate un po' voi Praticamente alla sosta Spa è la prima gara dove Sainz va meglio di Leclerc Pensate un po' voi Anche in Ungheria dove Sainz arriva davanti a Leclerc Finché il team non rovina la gara di Leclerc Richiamandolo iBox Leclerc era più veloce di Sainz Quindi ragazzi vedete che E anche in Austria Sainz in Austria inizia a recuperare Su Verstappen Prima che gli esplodi il motore E su Leclerc Perché Leclerc già ha problemi con l'acceleratore In Francia si testano le lodi di Sainz Che fa una rimonta pazzesca Ma una rimonta pazzesca ragazzi Contro vetture molto meno potenti della sua Quindi Stessa cosa a Monza Sainz a Monza recupera Potrebbe prendere anche il terzo posto Ma Monza era Aveva di fronte a sé Anche una Mercedes sotto tono Non a caso A Zandvoort Sainz fece cagare In una gara dove Leclerc comunque con una battaglia estrema Si andrà a prendere il podio Quindi vedete come Sainz ha deluso sempre Ha deluso Praticamente in tutte le gare Mi ricordo appunto Spa e il Messico Queste sono le gare dove Sainz ha fatto veramente lo sborone Gli Stati Uniti non lo possiamo giudicare Io pensavo Penso che Sainz negli Stati Uniti Poteva fare una bella gara Se non l'avessero tamponato al via Però ragazzi 3-4 gare all'anno Cioè il mondiale dura 22 gare Inizierà a durare 24-25 gare Non ti puoi permettere di fare 4 gare bene E le altre 18 male Sainz ha deluso Ha deluso quando in Brasile C'è stato un momento che poteva cedere la posizione a Leclerc E non l'ha fatto Perché quando si è ripartiti Dalla Safety Car A un certo punto Leclerc aveva 2 secondi di vantaggio su Alonso In quel momento Sainz poteva cedere la posizione Perché in 2 secondi Poteva far passare Leclerc Mettersi dietro Prendere la scia E proteggergli la posizione Non l'ha fatto Un Sainz che all'annuncio del licenziamento di Binotto È stato capace di dire Io e Leclerc non siamo amici Binotto Io devo tutto a Binotto Cioè ragazzi vedete che Si è reso anche antipatico Sainz a tanti tifosi Ferrari Perché il suo comportamento non è stato bello Io vi ripeto Sainz è influenzato anche tanto dagli sponsor Perché gli spagnoli in generale Sono sempre stati pieni di sponsor Basta vedere Alonso che ovunque andava Telefonica Movistar Dopo è arrivato Santander Pure in Ferrari Quindi Alonso ha portato sempre gli sponsor Ora ci sta Sainz che Anche grazie alla bravura del padre Ha i sponsor spagnoli Estrella Galizia Santander Ha dietro le spalle queste sponsorizzazioni E si può permettere comunque di fare la voce grossa Spesso e volentieri Non a caso abbiamo visto una celebrazione Di Santander e di Estrella A Galizia Alla vittoria di Sainz a Silverstone Incredibile Proprio come se la Ferrari L'avesse fatto per gli sponsor Ricordo a tutti Come il padre Carlos Sainz Senior Era litigato nel Mondiale Rally Dalle scuderie Perché portava sponsorizzazioni incredibili Dalla Repsol Alla Telefonica Movistar Quindi Alla fortuna addirittura Pensate un po' voi Però All'atto pratico La stagione di Sainz È stata enormemente insufficiente L'errore clamoroso A Suzuki È stato l'unico pollo Che si è uscito al primo giro E gli è preso di mano la macchina L'unico pollo Quando tutti comunque Anche con gomme che non erano adeguate In quel momento Perché la pista era bagnatissima E molti stavano con le intermedie L'unico pollo è stato Sainz Quindi poi non te la puoi prendere più di tanto Singapore per esempio Era una gara dove ci aspettavamo Sainz fare grandi cose Non le ha fatte Perciò La delusione di Sainz Quest'anno è palese Sainz quest'anno per me Ha dimostrato Di non essere uno che può lottare Per il Mondiale Definitivamente E ha dimostrato Di essere molto inferiore All'Eclerc Io ripeto Mi piace come pilota Perché sbaglia poco A livello di strategie Sainz è superiore all'Eclerc E' uno di quelli Che riesce a leggere meglio La lettura di una strategia In pista Però A livello di talento Di velocità Questa è la stagione Che consacra All'Eclerc Molto meglio di Sainz E' chiaro che La Ferrari L'ha tenuto a galla Nella classifica Senza annunciare Un primo Un secondo pilota Danneggiando enormemente E l'Eclerc E' il team Se siamo arrivati all'ultima gara A rischio di perdere Tutte e due le seconde posizioni E' stato proprio questo Scempio di Ferrari Che non ha detto prima Le posizioni Sainz Chiaramente Dico io Cosa doveva fare Di diverso Sainz avrebbe dovuto fare Meno errori Per poter essere definito Un competitor Per il Mondiale E sostanzialmente Ragazzi Io mi aspettavo Un Sainz Anche nei duelli Corpo a corpo Migliore Non lo è stato L'abbiamo visto sì In Francia Fare una bella rimonta A Monza pure Ma ripeto Con mezzi In quel momento Incredibilmente superiore Alle vetture Che è andata a superare In pista Ma per l'atto pratico Ragazzi Ho visto Sainz Sempre un po' in difficoltà Pure Contro Hamilton Ho visto fare un duello Domenica Molto impacciato Il fatto di spingere Fuori Hamilton Gli ha lasciato lo spazio In maniera In maniera In maniera non eccezionale Anche la gara del Brasile Ha fatto dei sorpassi Sì ma L'ho visto sempre Molto impacciato Lui dice È solo un problema Di vettura Io non credo Non credo Perché ripeto A livello velocistico Sainz non c'è stato mai Anche quando la vettura È iniziata a girare bene Sainz raramente È riuscito a battere Leclerc in qualifica Se tu c'hai la velocità pura Con una vettura Che ti inizia a piacere È stato lui a dire Eh no ma la macchina È iniziata a essere Come dico io Hanno fatto dei lavori Per avvicinarmi A questa vettura Tu almeno in qualifica Dovresti fare dei tempi migliori Il tuo compagno in squadra Invece si è avvicinato A un certo punto della stagione Arrivava sempre là là Però stava dietro ragazzi E se andiamo a vedere Il compito delle pole E delle vittorie Quest'anno Sainz L'ha presa in tutti i sensi Con i suoi errori Si è precluso Anche la possibilità Di giocarsi Almeno il quarto posto Ma se fosse stato costante Anche il terzo Avrebbe potuto giocarsi Quindi vedete Come una stagione Sicuramente Che ha ridimensionato Completamente Le prospettive di Sainz Chi può pensare A Sainz Che l'anno prossimo Possa lottare Per il titolo mondiale Nessuno Io non ci credo Io penso che adesso Veramente Ferrari Deve dire Da inizio stagione Sainz fermati Ed è stato il problema Di Ferrari Che gli ha fatto il contratto A Imola A inizio mondiale Che non si fa mai E infatti Sainz Da quel momento Si è come rilassato A Imola Si è uscito di stata All'inizio Per il contatto con Ricciardo Che poteva evitare A Barcellona Si è uscito di pista Al primo giro Fortunatamente Rientrando in pista Ma con una vettura Che già aveva dei danni Cioè vedete ragazzi Sainz Durante la stagione Ha avuto un livello Anche di concentrazione Molto basso Perché la Ferrari L'ha messo subito tranquillo Ecco perché vi dicevo io Bisogna prendere Mick Schumacher E metterlo in seno al team Per mettere pressione Pure sui piloti ufficiali Ed invece Non si sta facendo Ci metti Schwarzman Oppure ci lasci Giovi nazi piloti Che sai che non guideranno mai Una Ferrari Perché non c'hanno talento Uno Schumacher In prospettiva Poteva essere pericoloso Anche per i piloti ufficiali Vedete ragazzi Quando tu crei tensione E fai capire Che non si può sbagliare più L'abbiamo visto domenica Ferrari ha fatto Una gara mostruosa Come se l'avesse fatta Tutto e così Quest'anno le gare Avremmo lottato Per il mondiale Invece vedi Che quando tu a uno Lo fa rilassare Come è successo a Senza Appena fatto il contratto Fa gli errori Perché sa che tanto Ha un margine di Errore Molto più ampio Quindi Io dico Faremo la paggiela di Senza Saremo più specifici Però Per me è stata Una grande delusione Poi ditemi voi Ciao raga Per me è stata